come potrebbe essere la nostra casa tra un pochettino la nostra finestra è fighissimo questo posto ti fa capire quanto il genere umano non gliene frega niente del tuo vicino e cosa possa fare in realtà può fare esattamente quello che gli pare il potere dei soldi il potere di tenare la guerra le cose belle di strugge l'uomo mi ne può stregarvi meno guardate che bella che bella città che era questa è una cosa splendida è una cosa meravigliosa tutte cose meravigliose che adesso sono abbandonate a se stesse fighissimo la cosa più figa era la toyota la toyota la toyota è la cosa più figa qua neanche tutta sta zona è tutta quanta chiusa non c'è se può entrare qua pieno di polizie a destra e a sinistra poliziotti ovunque ma comunque mi è piaciuto sto viaggio mi è piaciuto vedere questo posto di ci sono allenare per fare la guerra 40 anni se resiste una cosa per 40 anni ma nella storia philips tedesca guardate il marchio della philips c'erano i giapponesi e i tedeschi il jet jet non c'è più il sentore spaziale è un'altra ruina e speria d'acqua il motel c'è sta ancora questo bello